Un piano ingegnoso Bene, questa è una rapina! Un errore madornale Rapinare la banca era stato facile Ma riuscire a sopravvivere nella cittadina più cordiale del mondo Eccoci qui Questo era davvero difficile Accomodatevi, prego Ho appena rapinato queste persone, non mi va di conoscerle, va bene? La storia di tre fratelli che tentano di uscire da Paradise C'è un autobus o un treno? In qualunque modo Bufera in Paradiso Grazie